Beyond Meat continua a crollare, il crollo delle azioni non si ferma più. Oggi hanno segnato un meno 13, un crollo veramente pazzesco dopo la pubblicazione dei risultati. Benvenuti su Investire con Gus. Come sapete ho liquidato la posizione in Beyond Meat a circa 135 dollari. E per adesso ho fatto più che bene, direi. Le azioni continuano a crollare senza sosta. Questo crollo sembra non avere fine. In questo video andremo a vedere come sono stati i risultati di Beyond Meat, come è stata la trimestrale. E poi vi dirò a che livelli potrei pensare di ricomprare Beyond Meat. Prima di iniziare ovviamente ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi. I ricavi sono stati in aumento di circa il 13%. Quindi si crescita, però crescita veramente minima, molto bassa, troppo bassa per un'azione che ha una valutazione così ricca come Beyond Meat. Poi il gross margin è peggiorato parecchio. Dal 27% dell'anno scorso è arrivato a un 21,6%. Un calo veramente notevole. La Just Debit è stato anche molto negativo. Negativo del 34,5%. E la società ha portato a una perdita di 54,8 milioni contro i 19 milioni dell'anno scorso. C'è stato un forte aumento nei ricavi internazionali, però i ricavi derivanti dagli Stati Uniti sono stati in calo. Questo è molto grave. Vedere calo sui ricavi dagli Stati Uniti è veramente preoccupante. Anche perché i ristoranti in USA sono pieni, stanno andando fortissimo. McDonald's ad esempio ha portato dei risultati veramente ottimi. Quindi mi sarei aspettato di vedere buoni risultati anche da Beyond Meat, visto che una buona parte dei ricavi arriva dalle vendite ai ristoranti. Invece Beyond Meat non riesce a stare al passo. I ricavi non crescono a sufficienza. Poi hanno spiegato un pochino perché è peggiorato il gross margin e hanno detto che è stato principalmente a causa dei costi di trasporto in aumento, costi di magazzinaggio in aumento ed anche per una crescita degli ammortamenti. Quindi le solite motivazioni che stanno dando un po' tutte le società. Inoltre hanno spiegato che la perdita in forte aumento è dovuta principalmente al fatto che stanno spendendo moltissimo in marketing, che stanno investendo in marketing per il loro futuro. Però questo aumento della spesa non viene giustificato da un aumento dei ricavi. Perché, ok, la società sta investendo in marketing, quindi cerca di farsi più pubblicità, cerca di farsi conoscere di più, e questo è ottimo, è un buon investimento. Però mi aspetterei di vedere una congrua crescita dei ricavi. Cioè, spendi di più, ma crescerai di più. Invece, in questo caso non è così. Beyond Meat sta crescendo troppo poco per una società valutata in questa maniera, per una società growth. Perciò risulta che questa spesa in marketing non stia dando i frutti sperati. E il fatto che i costi stiano aumentando è molto preoccupante perché questo vorrà dire che Beyond Meat probabilmente non sarà in grado di abbassare i prezzi dei suoi prodotti a breve. E finché Beyond Meat non abbasserà i prezzi dei suoi prodotti, non avrà alcuna possibilità di competere contro la carne animale. Perciò, sostanzialmente, finché i costi continuano a salire, il loro business model è quasi morto. Qua abbiamo un piccolo dettaglio dei ricavi per segmento. Come dicevamo prima, le vendite in USA, retail, sono scese del 4%. Invece le vendite nei ristoranti USA sono salite del 23%, però dopo un crollo nel 2020. Quindi mi sarei aspettato una crescita di molto superiore. Invece la crescita internazionale è bestiale, del 186% nel retail e nel food service, quindi nei ristoranti, del 41%. Questa è piuttosto scarsa, quindi non stanno ottenendo grandi risultati con catene di fast food e ristoranti. E questo è molto negativo perché diciamo che era uno dei pilastri del business model di Beyond Meat, quello di riuscire a raggiungere ristoranti e fast food. Perciò la situazione è sostanzialmente brutta e preoccupante. Ma vediamo cosa ha detto il CEO di Beyond Meat. Nonostante gli attuali problemi, rimaniamo concentrati sulla nostra crescita di lungo termine. Continuiamo ad investire nell'innovazione, nella commercializzazione e nelle nostre capacità di produzione negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. Crediamo di stare eseguendo molto bene la nostra visione di diventare la società proteica di domani. Qua purtroppo ho da dissentire. Secondo me non stanno eseguendo per niente bene la loro visione, perché i ricavi non stanno crescendo, o comunque stanno crescendo troppo poco, e di utili ovviamente non c'è nemmeno traccia. Ma non mi aspetterei neanche utili, non vorrei vedere utili da questa società, vorrei vedere solo una super crescita di ricavi che non stiamo vedendo. Poi il CEO ha detto che guarda il 2022 con grande entusiasmo e spera di dar vita a delle grandi partnership in cui hanno investito anche durante la pandemia, che spera daranno nuova vita, nuova linfa vitale alla società. E poi abbiamo le outlook per il quarto trimestre del 2021, che è stato a dir poco pessimo. Prevedono ricavi in un range tra 85 milioni e 110 milioni. L'anno scorso i ricavi del quarto trimestre sono stati di circa 102 milioni, quindi si aspettano una decrescita o un leggerissimo rialzo rispetto all'anno precedente. Quindi anche qua molto ma molto male. Quindi i risultati sono stati tutto sommato pessimi. Adesso devo dirvi quando potrei pensare di investire in Beyond Meat. La prima cosa che devo dire è sicuramente non adesso. Nonostante abbia fatto veramente un bel hammer, quindi è possibile che sul breve termine possa recuperare un po'. Però prima di investire nel lungo termine su questa società, vorrei rivedere un'accelerazione dei ricavi. Vorrei vedere ricavi che crescono con forza. Non vorrei vedere queste crescite schifose del 10%. Secondo me, finché la valutazione non verrà giù e finché i ricavi non ricominceranno ad accelerare, questa società non va assolutamente toccata. Non ci investirei neanche un centesimo. E voi invece cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao! Ciao!